ok la buca l'abbiamo chiusa adesso togliamo segnali lasciamo qua lasciamo le se qualcuno vuol venire poi qua e continuare a scavare lungo il canale secco qui nella parte che ho coltivato loro chiusa ne usciva ancora ma sono stufato che ce n'è e la cosa va bene così adesso qua qui c'è la continuazione di questo canale che sale arriva quel pietrone laggiù poco sotto la passarella questo canale ne ha non tantissimo è non aspettatevi che sa che cosa penso che sia luna e mi sono stufato adesso taglio l'angolo visto che è arrivato cesare mi sa lì c'è dario con la macchina da stamattina adesso mi sono stufato io la eccola la quando vedete una y sono così sono nei paraggi qualunque torrentino la vediate sono nei paraggi adesso vi faccio vedere cosa ho trovato allora c'è un po il sole ecco siamo il dito questo quello che è uscito non è tantissimo qui c'è il mio setaccio setaccio frankenstein tutto tacconato tutto tacconato niente adesso mi accendo la sigaretta se ne trovo scusate l'inquadratura fumo la sigaretta ritiro tutto e mi trasferisco mi trasferisco solo spaccaossa visto che fa caldo oggi ci saranno 10 gradi mi sarei tolto anche la maglietta ma io sono un po tipo lucio dalla avete presente la foresta spalle schiene eccetera quando mi depilo non sono un bel vedere anche la barba da fare vado a vedere solo spaccaossa penso che si stia bene ci saranno 5 6 gradi la freschino inizia andare a dare una tablata magari vado in una zona in alto dove non sono mai andato mi fermo sempre fino a un certo punto è ora di cominciare a esplorare la parte più in alto dove c'era una grossa massicciata che è crollata con degli enormi massi vediamo lì tempo ce l'ho la morosa non lavora più in pizzeria morosa lavora più in pizzeria quindi posso stare qua finché fa buio fino alle 7 poi torno alla macchina con la pilla frontale potrei anche farne meno l'estate andavo a pescare in montagna scendevo le due notte col chiaro della luna l'unica rotore di balle erano i cani dei pastori che mi sentivano dalle cascine arrivavano devo sempre essere pronto a fronteggiarli in due o tre anche in piena notte vabbè ragazzi non penso di trovare solo spaccaossa quindi penso che questo sia l'unico filmato che vedrete se trovassi una pepita è ovvio che va a fare vedere ma ne ho trovata una mi sa che nella mia vita non ne troverò più un'altra l'arcangelo è e resterà l'unica pepita che ho trovato ma va bene così in questione di soddisfazione per il resto chi si accontenta gode buona giornata a tutti e ci vediamo ciao a tutti